Buongiorno a tutti. Eccoci al nostro appuntamento per conoscere il Santo del Giorno. Oggi abbiamo una santa che conosciamo ben poco, forse è ignorata da tanti, forse non l'abbiamo mai ascoltata, ma la nostra liturgia ambrosiana ce la presenta come una santa che ha fatto il suo compito di testimonianza ed è Santa Lucia Filippini. Nacque nel 1672 a Tarquinia, orfana ancora di entrambi i genitori, seguendo il consiglio del Cardinal Barbarigo, entrò a 16 anni nel convento delle Clarisse di Monte Fiascone, dove completò la sua formazione religiosa ed si delineò chiaramente la sua vocazione di educatrice. Svolse prima all'interno del chiostro un ruolo di sensibilissima e apprezzata formatrice, poi il vescovo le affidò le opere scolastiche diocesane. Infine, con la sua maturata esperienza, realizzò il suo piano apostolico, dando origine al monastero educativo delle suore, che da lei prese il nome di Maestre Pie Filippine. Aprì numerose scuole a Montefiascone, poi a Roma e in altri centri d'Italia e ne costituì parecchie anche all'estero, particolarmente nell'America del Nord. Logorata dalle fatiche e da una dura malattia, morì nel 1732. Pio Undicesimo, nel 1930, la dichiarò santa. Il 26 marzo si celebra però anche la memoria di Sant'Emanuele Martire, presumibilmente del III secolo, ricordato insieme a Quadrato e Teodosio, originari dell'Oriente, spinti dall'esempio e dal coraggio dei cristiani, al cui martirio avevano dovuto assistere, si presentarono personalmente e spontaneamente al governatore della loro provincia, dichiarandosi cristiani. Imprigionati subirono anch'essi il martirio. Ecco, la Chiesa ci offre continuamente i Santi alla nostra attenzione e mi pare di poter mettere insieme questa rubrica dei Santi con le parole del Vangelo di oggi che concludeva il discorso della montagna nel Vangelo di San Matteo di questa mattina, dove Gesù dice non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. Ecco, i Santi noi li vogliamo conoscere proprio per questo motivo, perché sono coloro che sono stati capaci, con tutta la fatica che facciamo anche noi, di seguire la volontà di Dio, che non è qualche cosa di preordinato, ma è il camminare alla luce della parola del Signore, il riuscire a leggere il nostro tempo con lo stesso stile con cui vedono questo tempo gli occhi stessi di Dio. Prima di concludere volevo farvi conoscere un libretto che è appena arrivato in Chiesa. Voi sapete che arrivano tutte le riviste della Buona Stampa. Questa settimana la CEI ha mandato un libretto gratis, lo trovate in Chiesa se volete andare, è questo che adesso vi faccio vedere. Eccolo qui. La Chiesa è viva, Amen, la parola che salva. Ha le messe della domenica prossima, della domenica delle palme, di tutto il triduo pasquale con Pasqua. C'è un piccolo problemino, non è il rito ambrosiano, ma è il rito romano. Quindi quando vedrete le messe in televisioni del Papa, eccetera, troverete queste letture. Noi in rito ambrosiano abbiamo un altro schema, abbiamo seguito altre strade. È un librettino molto bello perché in fondo ha moltissime preghiere che si possono fare in onore della Madonna, il Rosario, varie invocazioni, la Via Crucis. E allora è un librettino molto semplice, molto bello. Ha delle preghiere davanti al crocefisso, davanti alla Madonna, delle preghiere per invocare l'aiuto della Vergine Maria in questo momento così difficile. Chi lo vuole, passando in Chiesa, lo prenda. Intanto comincio a dirvi che domani mattina purtroppo la Via Crucis non la riprenderemo, la faremo solamente, la trasmetteremo solamente con la radio perché è diventato complicato seguirmi mentre faccio il percorso della Via Crucis. Voi comunque fate la casa. Tanto la Via Crucis la trovate dappertutto, basta andare eventualmente su internet e trovate tutti i passaggi della Via Crucis. Vi saluto quest'oggi. Resistete, ancora un giorno pare che poi il tempo comincerà ad essere più mite e potrete in realtà respirare un'aria più serena e più tranquilla. Un augurio a tutti perché stiate bene, cercate di vivere bene questo tempo che il Signore ci mette a disposizione per leggere, per studiare i nostri ragazzi, per stare un po' in casa, chiacchierare tra di noi anche se a distanza giusta. L'invito di Dio è che non dobbiamo sciupare neanche questo tempo. Buona giornata a tutti e arrivederci.